Giorno per giorno prendono forma nella zona industriale di Erche e Capannoni in costruzione dell'impianto di compostaggio a digestione anaerobica da 80.000 tonnellate annue con produzione di energia elettrica da biogas. A riaprire il cantiere è stato nuovamente il Tribunale amministrativo, ma la comunità, contraria a tale insediamento, non si dà per vinta e promette nuove iniziative di protesta. Ad annunciarle in una nota il Comitato Noi per la Difesa del Territorio. Un silenzio tombale incombe nella comunità di Erche dopo l'ultima sentenza del Tardilecce, scrivono che ha colto il ricorso cautelare proposto dalla società veneta Eracle, difesa dall'avvocato Luigi V, sulla questione impianto di compostaggio. Voluto dall'amministrazione ad oggi in essere contro la volontà dei cittadini, scrive con disappunto il Comitato, irritato dal mancato blocco dell'opera. Il nuovo Comitato, costituitosi a dicembre scorso, non si dà pace in quanto l'assenza di informazione ai cittadini fa capire ancora una volta che sindaco ed amministrazione tutta non hanno idee chiare e non si assumono le dovute responsabilità affinché si faccia veramente chiarezza e qualcosa di concreto per fermare questo impianto. Se sindaco e cittadini di Erche insieme dicono no a questo impianto, allora è giunto il momento di giocare a carte scoperte, scendendo in piazza, nessuno escluso, condividendo qualsiasi iniziativa che possa fermare i lavori anche attraverso la revoca della Convenzione, più volte annunciata pubblicamente dallo stesso sindaco. Salvare il nostro territorio e specialmente la salute di tutti non apprezzo, scrive ancora il Comitato, è da anni che si fanno esposti alla Procura della Repubblica e denunce alla provincia per cercare di far capire che molte sono le criticità nelle autorizzazioni. Per questo prosegue vogliamo ancora una volta essere ascoltati da tutte le istituzioni affinché si faccia piena luce. Il nostro territorio è ancora una volta preso di mira da chi vuole fare solo business economico, finalizzato a ricevere incentivi statali e non quello di risolvere i problemi della comunità. Il Comitato, noi per la difesa del territorio, lancia pertanto un appello a tutti gli ercolani ma anche ai cittadini dei comuni vicini che già ospitano discariche impianti simili e che, quando l'impianto entrerà in attività, saranno interessati dalle stesse problematiche di Erchie. Nei prossimi giorni sarà pertanto organizzata una grande manifestazione, per questo il Comitato invita i cittadini di San Pancrazio Salentino, Avetrana, Manduria e Torre Santa Susanna a scendere in piazza insieme per manifestare pacificamente contro quello che è definito un mostro a tutti gli effetti.